Fossati, torniamo al secolo scorso Mario? Torniamo al secolo scorso, volentieri. Abbiamo da raccontare una storia, anzi più di una storia. Tra l'altro questa storia che raccontiamo si lega ai temi che abbiamo trattato finora, cioè quelli della formazione degli adolescenti e dei preadolescenti, perché non soltanto la storia che si racconta è anche una storia di formazione e non soltanto, diciamo, sentimentale, ma anche l'autore, che è Fabio Geda, di mestiere, fa anche quello, cioè l'educatore. Buongiorno Fabio Geda. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, non fa soltanto quello, fa anche lo scrittore, il penultimo libro che gli ha dato anche un grande successo. Era comunque anche questa, una storia di ragazzi ed era nel mare ci sono i coccodrilli, sempre per Dalaia Editori, adesso pubblica un nuovo romanzo che si chiama L'estate alla fine del secolo. Ed è l'estate di riferimento, Fabio Geda, a quella del 99. Un, diciamo, racconta fondamentalmente il protagonista di questa storia è Zeno, che, diciamo, racconta quell'estate lì in cui lui era adolescente nel 99 e con la grande passione di fumetti, lui è un adolescente abbastanza maturo e incontra per la prima volta un nonno che non sapeva da avere, un nonno che ha una storia anche tragica, di un secolo tragico alle spalle, e qui i due si scoprono in qualche modo, scoprono, come dire, la propria relazione e poi scoprono, soprattutto Zeno scopre una storia, una grande storia, una lunga storia che attraversa tutto il ventesimo secolo, diciamo così, il senso un po' di questo racconto. Sì, sì, è che è la fortuna che gli venga raccontata esattamente dalla persona che l'ha vissuta ed è un'esperienza che purtroppo non a tutti capita, quella di avere dei nonni in grado di raccontarti il secolo appena passato e la nostra società in qualche modo non facilita questa relazione tra nonni e nipoti che invece è ricchissima. Diciamo che è ricchissima soprattutto per certi nonni di certe generazioni, io ci riflettevo perché appunto il nonno di Zeno si chiama Simone Coifman, è un ebreo, ha avuto una storia, è nato il giorno in cui vengono varate nel novembre del 38 le leggi razziali e poi subisce anche nella propria infanzia e preadolescenza proprio questo condizionamento, la guerra. Ecco, diciamo che forse un secolo tragico però ha prodotto anche molte storie da raccontare ai propri nipoti. Sì, ma infatti guarda, alla fin fine come direi, il cuore del romanzo era esattamente quello nel senso che a me non interessava di per sé né parlare della Shoah perché mi sembra che di libri su questo argomento ce ne siano già in abbondanza e anche molto più, come dire, approfonditi di quanto io avrei mai potuto fare ma mettere in campo proprio la relazione che si crea tra due generazioni così diverse fra chi sta scoprendo la vita e se stesso e chi invece con la vita sta facendo i conti. Per cui questo trapasso di nozioni, diciamo per via maschile, era in realtà quello che io davvero volevo raccontare. C'è una storia dentro, tante storie appunto, quelle di cui parlavamo che però mi pare importante da sottolineare e invece è quella della formazione del nonno che dopo questa esperienza della guerra va a lavorare, a formarsi, diciamo così, a Ivrea e c'è un omaggio nella dedica all'Olivetti perché quel sistema di rapporto tra educazione, scuola, formazione al lavoro e impresa forse resta inarrivabile nel nostro paese. Sono assolutamente di questa idea e infatti tra l'altro nel libro io non ho detto che si trattava dell'Olivetti anche se ovviamente tutti ci arrivano da soli per fortuna perché ciò vuol dire che insomma che la leggenda anche, anche la leggenda di Adriano Olivetti in qualche modo è arrivata fino a noi, ma non l'ho messo perché appunto perché il nome di Adriano Olivetti è un po' come il peperoncino nella pasta, senti subito il gusto e rischiava di prendere molto più spazio, mentre invece volevo che fosse un rumore di fondo su cui poi chi voleva poteva andare ad approfondire. Certo, ecco, come dicevamo un po' di incrocio, i due nonno e nipote si conoscono, le proprie passioni, si incontrano, maturano anche assieme. C'era una cosa che mi veniva in mente leggendo appunto questo romanzo di persone e anche collettivo che forse appunto come dicevamo prima certe generazioni di nonni hanno avuto una grande possibilità anche nella tragedia di attraversare le storie. Ci pensi mai come autore e come giovane autore, diciamo così, poco più che trentenne, a che storie noi racconteremo ai nostri nipoti della nostra, del nostro secolo, questo qui che stiamo vivendo adesso, che forse è meno tragico ma anche un po' più noioso? E questo no, in realtà come dire è una tragicità più sottile e quindi forse anche meno epica ed è per questo che siamo molto depressi, credo, perché alla fin fine è un secolo secondo me che è partito molto male, ma con degli aspetti di città decisamente inferiori, per cui ancora non sappiamo che tono dargli. E quindi infatti anche le storie, poi ascolta io sto parlando dell'Italia perché invece il resto, come dire, nel resto del mondo accadono cose ben più epiche. Diciamo che in Ayatollah Bari avrà delle storie da raccontare ai propri nipoti notevoli. Stiamo pensando esattamente a questa cosa qua, che il problema sarà nostro. Ecco, lo dico, è il protagonista appunto del libro Nel mare ci sono i coccodrilli, che racconta la storia di questo ragazzino che dall'Afghanistan con tanti peripezzi è arrivato in Italia, quella sì che è una storia da raccontare nipoti. Io, Mario, scusami, forse sarà una domanda scema, però volevo chiedere a Fabio Geda, la scelta del nome, che nella letteratura è un nome pesante, cioè Zeno, com'è che... Ma guarda, in realtà è assolutamente casuale, io quando comincio un libro mi innamoro di un nome che mi sembra che in qualche modo quel personaggio possa chiamarsi soltanto in quel modo. In realtà è successo che un mio amico ha avuto da fuoco un bambino, era chiamato Zeno, e io ho pensato che il mio personaggio sarebbe stato benissimo con un nome del genere, però lui nasce in Sicilia e quindi non c'è nome meno siciliato di Zeno. E allora mi sono dovuto nel libro inventare tutta una piccola giustificazione che ovviamente è connessa alla coscienza, nel senso che poi il nonno è un lettore di Svevo, insomma. Però in realtà tutto nasce dal fatto che io ho cominciato a pensare a questo ragazzino chiamandolo Zeno nella mia testa e non potevo più farne a meno e quindi mi sono arreso. Era già nato. Hai fatto bene perché poi alla fine della fiera Zeno ha inaugurato il secolo della coscienza italiana, 120 anni fa, in qualche modo, 110, e forse Zeno, il Zeno protagonista di Fabio Geda, segna un po' il trapasso tra il XX e il XXI secolo per gli italiani, per il nostro paese. Allora ricordiamo, il romanzo si chiama L'estate alla fine del secolo, lo ha scritto Fabio Geda, l'ha pubblicato dalla editore. Grazie Fabio Geda. Grazie a voi, ciao. Ciao.